che bello ciao a tutti ragazzi e ben tornati su dragomania legends che vuol dire draghi leggendari credo che fosse così ragazzi scusatemi se però la webcam che ho messo è un po' così grazie 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 noleggio noleggio allora scissi devo aprire la faccia allora 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 ma 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 ti morrisse il cugino di tiarrea che scavola no 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 non ce l'ho fatta perchè mi sono distrutto il compagno di sto cazzo di telefono e cade e cade mi hai durdo il naso ma 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 stas ma cazzo cazzo sasso allora no 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 ok adesso ho trovato quello bene Cristian casca tutto al contrario pur allora oh come è il culetto vedo una cosa che non accade che a me è uscito allora io ce l'ho anche scaricato sul telefono trago mania legends ed in Italia non accade che questo qua è inglese sul computer è inglese sul telefono invece italiano mi sta scivolando ah 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 ok 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 vai come è il culetto dragolava è potentissimo capito e provateci anche voi ecco ecco ragazzi ho avuto qua questo secondo episodio di drago mania legends con derrone prossimo se vi piace il video vi piace il commento iscrivetevi al canale e ciao 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 ciao